Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Capaccio Pestum. Contestualmente ha nominato come commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, il vice prefetto Rosa Maria Falasca.